Siamo molto felici di ospitare per la ventesima volta, la ventesima edizione del Torneo Internazionale di Udine di Ginastica Ritmica perché ormai ha raggiunto una dimensione importante anche e soprattutto in termini tecnici poiché saranno presenti fra le migliori atlete mondiali in questo momento in circolazione nel panorama della ginnastica ritmica mondiale. Tra queste c'è anche la nostra Alexandra Giorgiugulese che dà sicuramente lustro all'Associazione Sportiva Dienese e io direi anche all'amministrazione comunale tutta. Sono molto contenta del fatto che ovviamente fino all'anno scorso comunque ero dall'altra parte del tavolo come dire perché facevo io le domande ai miei miti e da quest'anno visto che sono diventata senior sono accanto a loro e molti di loro ho scoperto che sono, sapevo già ovviamente ma ora da diverse prospettive sono molto amiche, molto simpatiche a parte molto brave e che dire sono delle emozioni ancora nuove ma molto belle. Free Workshop volevamo fare una bella cosa, avvicinare a chiunque, a ognuno le star mondiali perché è solito alle gare li vedono tipo a distanza 200 metri dalle tribune e invece qua loro possono entrare insieme a loro in palestra, allenarsi, ascoltare da loro, essere allenate da loro, fotografate, possono rivolgergli le domande, quindi avvicinare le star a portata di piccole ginaste diciamo, magari poi una di loro diventerà la grande.